i dinosauri thailandesi ciao io sono stefano e benvenuto in questo nuovo video di intanto in thailandia come al solito prima di passare la notizia volevo invitarti se ancora non l'hai fatto a iscriverti al canale a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video nella provincia di con ken residenti ed esperti locali hanno chiesto al governo di creare un attrazione turistica a manciachiri in quanto dieci anni fa circa sono state scoperte delle ossa di dinosauro da un incontro fra gli esperti dell'università di calasin con ken e i locali sono saltate fuori alcune particolarità alcune curiosità ad esempio una di queste è che le ossa ritrovate che sono state poi analizzate gli esperti del museo di calasin pare che abbiano più di 100 milioni di anni e che poi sono state confrontate tanto sono tre tipi di dinosauri diversi di cui uno di questi tre era sauropode gigante e appunto sono state confrontate con altre ossa ritrovate in provincia vicina per vedere se insomma c'è una similitudine fra dinosauri che esser soprattutto il periodo in cui quei dinosauri vivevano era lo stesso un'altra curiosità che è saltata fuori è stata quella che i locali si chiedono come mai dieci anni fa sono state scoperte le ossa sono state prelevate dagli studiosi e ancora non le hanno restituite gli esperti hanno cercato di fare capire che le ossa di dinosauro di centinaia di milioni di anni fa sono dei reperti che devo stare in musei perché sono un bene di pubblico dominio sono bene per la cultura per la ricerca sono bene di pubblico e che non possono appartenere a privati però in compenso cioè una volta che vengono effettuati gli studi si faranno delle copie e poi verranno queste coppie verranno fornite al proprietario del terreno dove sono state trovate le ossa inoltre gli esperti hanno anche aggiunto che quando gli studi su queste ossa saranno terminate le ossa finiranno nel museo di sirindor il consiglio nazionale per lo sviluppo e la ricerca pensa anzi è fortemente convinto che il posto dove sono state ritrovate queste ossa possa diventare un ottimo un'ottima zona per la ricerca quindi tenderà a portare studiosi che andranno a scavare un po in giro per vedere se riescono a trovare altre ossa questa notizia finisce qua ti inviterò a lasciare un like a condividere questo video sui tuoi social e noi ci vediamo il prossimo video